Cosa è successo di nuovo fra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno? Tutti i dettagli a seguire nell'articolo. Vladimir Luxuria ha condiviso alcune foto mentre si trova al mare, fra i tanti commenti, emergono anche quelli di Francesco Benigno, con il quale negli ultimi mesi ha avuto diversi attriti. Cosa è successo? In questi giorni Vladimir Luxuria è in Sardegna e, fra un impegno e l'altro, ha trovato anche il momento di rilassarsi un po' in spiaggia. Su Instagram, poi, sono arrivate le sue foto in bikini. Fra i tanti commenti, come abbiamo detto, emergono anche quelli dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Sotto la foto di Vladimir leggiamo quanto segue. Che paura, né carne né pesce, mi fa impressione, decadenza totale. Un uomo travestito da donna merita solo compassione, ma si può? Dai c'è un limite a tutto, che brutto vedere. Raggiunta dal Corriere della Sera, l'ultima conduttrice del reality di Canale 5, ha risposto agli insulti. Al noto giornale, infatti, ha dichiarato. Ma perché dovrei perdere tempo ed energie con questi sfigati? Sono in Sardegna, in un posto bellissimo, davanti a un mare turchese. Guardi, se non mi avessero avvisata non me ne sarei accorta, è stato un gesto spontaneo, mica volevo darmi, arie da sirenetta o da Miss Italia. Ero in spiaggia e in spiaggia non ci vai con il cappotto. Fine. Vladimir Luxuria risponde alle critiche dopo le foto in bikini. Sempre al Corriere della Sera, Vladimir Luxuria ha raccontato che negli anni ha imparato a, a vivere la vita reale, a vedere le persone negli occhi, ai loro sorrisi, a un'esperienza tattile. Non vivo questa bolla di persone che spesso non hanno neanche il coraggio di metterci la faccia. Non sono nemmeno haters. Sono dei poveri frustrati che non riescono a farsi una vita propria e devono criticare quella degli altri. E ancora, poi, ha aggiunto queste parole. Non voglio nobilitare questi commenti chiamandoli maschilisti e transfobici. Non sono una psichiatra, ma non sarà che tutta questa repulsione nasconda un'attrazione? Ma cosa c'entra Francesco Benigno in tutto questo? Anche l'ex naufrago ha commentato la foto di Vladimir. Le parole di Francesco Benigno. Fra i commenti sotto la foto di Vladimir Luxuria appare quello di Francesco Benigno. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, allo scatto pubblicato su Instagram, ha reagito in questo modo. Ma ci fai riprendere per un paio di giorni da tutto questo bel vedere, aggiungendo delle faccette sorridenti, indicando di essere ironico. Luxuria non ha risposto pubblicamente a queste dichiarazioni, e non sappiamo se prossimamente lo farà. Già in passato, all'epoca delle discussioni con Benigno, la conduttrice dell'Isola dei Famosi aveva spesso preso la parola, in diretta, per dire la sua sugli atteggiamenti dell'attore siciliano.